Pinocchio di Matteo Garrone. Vado all'anteprima stampa, ieri, dove ho incontrato anche Francesco Alò, recuperatevi l'intervista che gli ho fatto sul mio canale, e Valentina Riete, recuperatevi anche l'intervista che lei ha fatto a me praticamente su Cerbero Podcast. Mi siedo sulla seggiola di questo cinema preparato al mattino per questa anteprima stampa in una sala stracolma di critici, e non solo, dato che c'era il sottoscritto. Mi siedo lì con una certa aspettativa, perché Pinocchio, ovviamente per noi italiani, è qualcosa di importante, ma ero comunque consapevole che riportare Collodi, quindi un testo comunque del 1800, al 2020, senza stravolgerlo in maniera eccessiva, perché da quello che avevo appreso precedentemente alla visione, non sarebbe stata una vera e propria revisione in chiave d'arc, un po' come può fare un del toro, un Barton, prendendo vari fiabe o vari testi antichi. Penso appunto a Edward Mani di Forbice con il Frankenstein di Mary Shelley, quella era una sorta di rilettura in chiave moderna per l'epoca, ovviamente, mischiata con una salsa uoriola, uoriola, no? Difficile, vabbè, salsa pop, uorioliana, forse un neologismo un po' del cazzo. E quindi Barton era riuscito a riportare Mary Shelley ai tempi che correvano. C'era uscito Matteo Carrone con Pinocchio, ni, ni. La cosa che mi è piaciuta di questo film è sicuramente, sarà una recensione integralmente senza spoiler, quindi state tranquilli. Anche perché ragazzi, voglio dire, cioè parliamo di Pinocchio. Ecco Geppetto. Parliamo di Pinocchio, quindi che vedevo spoilerà, che viene inghiottito da pescecane, insomma, e che diventa un ciuco. Allora, la cosa che mi è piaciuta è sicuramente l'estetica. Garrone, dal punto di vista formale, quindi regia, fotografia, colonna sonora, proprio scelta estetica di ogni inquadratura, è un regista meraviglioso e l'aveva già dimostrato nel racconto dei racconti, che è un film che anche lì mi era piaciuto nella forma, meno nella sostanza. L'ho trovato un po' manchevole di un qualcosa e che era una sorta di operazione simile, prendere Basile e portarlo negli anni correnti. Quindi, che vi devo dire? Il film è un po' annoiosetto, purtroppo, perché la storia di Pinocchio la conosciamo tutti, nonostante la Disney ci abbia un po' stravolto la concezione collodiana. Oggi proprio mi sto a sprecare con questi neologismi, no? Con queste stronzatine e qua stanno a fa un casino. La vicina, che cosa urli? E quindi, secondo me, il problema è stato il medesimo del racconto dei racconti. Forma bellissima, ma sostanza un po'. Così, nel senso è un film che ho visto, dopo mezz'ora mi ero francamente un po' rotto i coglioni, però non posso che riconoscergli una perizia estetica meravigliosa e si vede soprattutto, la cosa più importante, che è un film europeo, che è un film italiano, non è un classico film hollywoodiano tutto laccato, tutto patinato, con attori bellissimi, attrici bellissime, non so, tipo La Bella e la Bestia, per dire, o altre riproduzioni che hanno fatto, anche se lì era proprio prendere il Disney, il cartone Disney e riportarlo in live action. Quindi sono operazioni comunque diverse, però penso che se questo film fosse stato diretto da un regista americano con la concezione attuale della Hollywood moderna, insomma, dell'industria moderna, sarebbe stata un po' una pacchianata. Invece il rispetto che Garrone ha per questo testo di Collodi, per l'origine appunto italica del tutto, si nota nei dettagli, lo sporco nei vestiti che molto spesso non vediamo più nel cinema americano, la precisione nella fotografia che non è mai troppo enfatica, è sempre perfetta in ogni inquadratura, in ogni momento. Bellissima, ecco, cosa fondamentale, bellissima tutta quanta la componente di effettistica. Perché? C'è poca CGI, credo un po' negli occhi del Pinocchio Burattino e in qualche altra inserzioncina, ma si vede veramente poco, e invece sono quasi tutti make-up e mascheroni, come si diceva un tempo, e sono meravigliosi, sono meravigliosi. Questi sono gli effetti che piacciono a me, sono gli effetti che piacciono a me e che resistono anche di più nel tempo. Basti guardare, non lo so, la cosa di Carpenter, ancora oggi quegli effetti non digitali, beh, cazzo, fanno la loro porca figura. E penso che quindi questo film nel tempo resisterà, da quel punto di vista. Molto buona anche la ricostruzione delle creature, non soltanto a livello, diciamo, di forma, ma anche proprio come scelta visiva. La lumacona, è bella anche la fatina. Il grillo, ecco, il grillo non mi è piaciuto molto, un po' cringe, no. Cioè, però ho anche quello realizzato molto bene, per carità. Ah, poi, tra l'altro, Benigni, super, c'è da dire che è perfetto in questa parte. Poi, insomma, sappiamo che ha fatto un orribile Pinocchio nel 2002, però nelle vesti di questo geppetto l'ho trovato molto convincente. bellissimo quando scambia i suoi abiti per l'abecedario che darà al figlio, al burattino, al suo figlio Pinocchio. È veramente sofferente, ma sempre con questa gioia di vivere, nonostante non abbia nulla, che è tipica di Benigni. Cioè, Benigni porta in sé questo come attore. e quindi perfetto. Devo dire la miglior, secondo me, prova attoriale di Ceccherini. Cioè, Ceccherini e Rocco Papaleo nei ruoli del Gatto e la Volpe sono stati fantastici, veramente. Solo amore per Ceccherini in questo film, anche Rocco Papaleo, bravissimo. e sono forse la componente comica più interessante del film. Altre cose, invece, l'ho trovate non riuscitissime a livello di sceneggiatura di parti comiche. Ripeto, ecco, le parti con il grillo non mi sono piaciute molto. Belle, invece, le parti con la fata madrina quando è bambina, che scherza un po' con Pinocchio, gli mette paura facendo arrivare i becchini. Quindi, quello è interessante. Però, alcune cose... Ecco, anche la lumacona, divertente all'inizio, poi dopo un po' quando, ad esempio, fanno quel giochetto che alzano le mani e la fanno parlare velocissima, perché ovviamente, essendo una lumaca, parla molto piano. Questa è la storia di... Scene che, diciamo, secondo me, non sono impeccabili dal punto di vista della scrittura. Non sono taglienti come dovrebbero. Quindi, in sostanza, film sicuramente da vedere, perché esteticamente è una meraviglia. Secondo me Garrone, al momento, è il fiore all'occhiello dell'Italia, almeno da un punto di vista formale. Cioè, quando vedo i suoi film, sono fiero del fatto che lui porti quella che è la storia del cinema italiano avanti, senza, appunto, scordarsi delle origini meravigliose che questo cinema ha. Quindi, rimane fortemente italiano, ma sposa, ovviamente, anche altri mondi e la contemporaneità. Ma, in certi film, probabilmente, perché sono più omaggi che rivisitazioni, anzi, sono omaggi, sia questo da Collodi, sia dei racconti da Basile, ecco, fare una roba del genere nel 2019 rischia di essere un pochettino palloso. E soprattutto io mi sono chiesto, ma qual è il pubblico di questo film? Perché un ragazzino si annoia sicuramente. Una persona della mia età, sì, lo vuoi apprezzare da certi punti di vista, ma anche lui, secondo me, dopo un po' dice, vabbè, ma ha rotto un po' i coglioni sta storia che ho sentito e visto 200 volte. Ma, non lo so, forse persone un po' più grandi. Però, vabbè, questo è un discorso commerciale che ci interessa poco. Sicuramente, dal punto di vista artistico, ha fatto il meglio che poteva. Salvo qualche piccolo errorino che vi ho, dal mio punto di vista che vi ho segnalato, era difficile mantenersi fedeli a Collodi, senza stravolgerlo anche formalmente, e rendere intrattenente un testo del genere nel 2019. Ripeto, non ha affatto il Del Toro di turno, non ha affatto il Barton di turno, che prendono Mary Shelley o quest'altra fiabba qui, e la stravolgono completamente creando qualcosa di loro per renderlo attuale. No, ha fatto un omaggio. Niente, detto questo, scrivetemi sotto voi che ne pensate, e ci vediamo alla prossima recensione, al prossimo video. Non lo so. Come al solito, iscrivetevi, perché il canale serve a quello, no? Tasto iscriviti, sta là, tranquillo, campanellina, e state a posto. Ciao.